Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, Corgasmic e vi do il benvenuto in questo, si può dire, primo episodio della ZAR Road to Chelsea. È un episodio che, come ogni primo episodio, vi mostro la squadra, anche se ve lo fate vedere nello scorso video. Vi faccio vedere i primi acquisti che vi ricordo, i bronzo e gli argento, li posso acquisire uno prima di ogni partita. Ogni episodio avrà tre partite e ho deciso, dopo l'acquisto di Kristiansen, difensore danese, 58, scarsissimo, per 300 crediti, di fare così. Cioè, quando finirò i bronzo e gli argento, comprerò all'inizio di... Io avevo detto che prendevo un giocatore oro ogni video, però così forse dura un po' troppo la serie, per cui ho deciso di comprare un giocatore, diciamo, importante ogni episodio, tipo sugli 80 o più di valutazione. E poi, sempre ogni episodio, un giocatore, sempre oro, ma un po' meno importante, tipo sotto gli 80, che ne so. Fatemi sapere voi, nei commenti, cosa ne pensate. In ogni caso, comincia la prima partita, questa è la nostra squadra a disposizione, questa è la prima rosa che andremo ad affrontare, con una squadra completamente bronzo, con poca intesa e un bascia in difesa. Devastante questa squadra, subito intesa i ragazzi, Rudnevsi, lituano, fa subito il gol dell'1-0, poi vabbè, finisce in goleada. In realtà questa partita aveva un portiere, il mio avversario, che usciva un po' troppo spesso, come in questo caso. Per esempio, non è in live questo episodio, perché non avevo tempo di registrarlo in live, o meglio, non avevo, boh, non avevo neanche tanta voglia. Però penso che il prossimo sarà in live, anche perché secondo me è più divertente, anche per vedere un po' le mie reaction, eccetera, eccetera. Penso che sarà più divertente. Comunque ragazzi, questa partita vi ho fatto vedere solo così, gol un po' in velocità, perché mettere 6 o 7 gol così in ogni partita sarebbe stato... Cioè sarebbe poi troppo lungo con le esultanze, eccetera, eccetera, tutte le cagate. Finisce 6-0 la partita, vittoria, vabbè, dominata, cioè non si può dire niente, 23 tiri contro 4, quindi direi che è abbastanza meritata. Andiamo a prendere un nuovo giocatore, qui c'è un Loftus Chick, ma c'è un Brown, il figlio segreto di William, con una donna del posto, attaccante, quindi per anche migliorare un po' l'intesa di Hazard, come potete vedere, tolgo questo McGark stranissimo. E metto Brown subito, prende il posto di Rudnevs, che comunque aveva fatto molto bene nella prima gara. Almeno aumento un po', come dicevo, l'intesa di Hazard, così giocherà anche meglio. Hazard comunque è un ottimo, ottimo giocatore. Nella seconda partita trovo questa squadra che è nettamente più forte della mia, con Cerci, Lacazette, Bravo in porta, Mascherano, Varane. Ma non bastano quei giocatori per contenere la furia di Hazard, che scappa sulla sinistra, rientra sul destro, fa la sua giocata, e la mette sotto l'incrocio come primo gol, e poi ignorantissimo, ruba l'esultanza a Starridge. Poi, Diop, soprannominato Lorco, chiedetevi voi il perché, fa il gol del 2-0 con un aeroplanino, poi a esultanza. Poi Hazard fa il numero, anche qui rientra in area, come il burro, taglia la difesa, e Bravo non ci può fare assolutamente nulla. Poi, trova un altro gol spettacolare, Hazard, guardate qui, stop e tiro di destro sotto l'incrocio del primo pallo. Davvero un gol spettacolare per Hazard, che va a festeggiare sotto la curva, e infine un altro bel gol di Hazard, che ne ha fatti veramente pochi, infatti, con un pallonetto il portiere esce un po', e Hazard lo penalizza con questo gran gol. Finisce 5-0, se non sbaglio, sì, 5-0 la partita, vabbè, non mi interessano i crediti che vinco, totale dominio anche qui. Vabbè, ovviamente le prime partite sono un po' facili. Quindi, intanto, per 850 crediti, o 800 crediti, compro Baker, detto il panettiere. Davvero un ottimo giocatore, perché, tra l'altro, ho scoperto che ha 5 stelle, piede debole, quindi tanta roba. In ogni caso, per un bronzo, ha delle statistiche, a parte, vabbè, la velocità, molto, molto buone. 64 di tiro, davvero buono. Infatti, cerco subito una nuova partita. Intanto c'è Brown e Baker, che hanno tripla intesa, perché sono entrambi inglesi, e ovviamente della stessa squadra. Becco, il tizio con Mandandà, Bonucci, Jallet, Bedimot, Matri e altri tizi sconosciuti. Comunque era un tizio francese, c'aveva pure il microfono e ogni tanto parlava. E si lamentava Baker, il panettiere, si fa conoscere con questo gran gol di destro. A sbloccare la partita dopo, tra l'altro, un'ora di gioco, quindi troppo tanto. E poi Brown chiude la partita con un 1-2 micidiale, davvero devastante questo duo. E quindi, vabbè, la partita si conclude così 2-0. Sono stato un po', diciamo, me la sono un po' giochicchiata sta partita. Non volevo fare altri 25 gol, altrimenti veniva un video di 15 minuti e mezzo. In ogni caso, tre vittorie su tre, un inizio migliore, non potevamo chiedere. Ovviamente, adesso che prenderemo sempre più giocatori, penso che troveremo degli avversari un po' più alla pari, un po' più competitivi, quanto meno. All'inizio di ogni episodio metterò una forma fisica più 10 o più 20 per, ovviamente, mettere la forma dei giocatori un po' più, come dire, a posto. Vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel like a questo video. Se riusciamo ad arrivare a 400 like, vi farò uscire subito il secondo episodio. Vi invito a scrivermi nei commenti quali sono i giocatori che vorreste che io acquisti per questa serie. Fatemi appunto sapere, fatemi sapere cosa ne pensate di questo primo episodio. E iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate, come sempre, in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella, ragazzi!